Croce Rossa compie 150 anni e Piazza Duomo di Catania ospita il Cri Village, ovvero un grande spazio espositivo nel quale i volontari di Catania hanno svolto dimostrazioni pratiche legate ai vari ambiti di intervento di Croce Rossa. Dalle manovre antisoffocamento e salvavita pediatriche alla rianimazione cardiopolmonare BLS, dalla raccolta del sangue con un'auto emoteca al primo soccorso e ancora assistenza sanitaria per le vie del centro storico con il servizio Cribike, fino ad arrivare alle campagne informative curate dai giovani del Comitato Provinciale di Croce Rossa di Catania, ovvero campagne legate alla sicurezza stradale, all'educazione sessuale, all'educazione alimentare e alla salvaguardia dell'ambiente. I volontari del Comitato di Catania hanno mostrato la mission di Croce Rossa, hanno raccontato ancora una volta alla gente l'identità dell'associazione, condividendo con la piazza esperienze, conoscenze, il modo formidabile dei volontari di aiutare i vulnerabili, di cui danno prova ogni giorno nei centri d'accoglienza siciliani o nel soccorso alla popolazione, come nel caso recente dell'alluvione nelle Marche, avvenuta il 3 maggio, dove l'intervento dei volontari di Croce Rossa italiana è stato essenziale nella città di Sinigallia e in molte altre occasioni in cui Croce Rossa risponde ai bisogni della popolazione. In una sola espressione, i volontari di Croce Rossa del Comitato Provinciale di Catania, con il Cri Village a Piazza Duomo, hanno raccontato i 150 anni di storia di Croce Rossa italiana. Tutta la settimana sarà piena, in modo tale da raccontare di noi, della nostra attività, della nostra mission alla gente. Croce Rossa è conosciuta da tutti, però tante cose forse ancora non sono evidenti e noi siamo qui proprio per raccontare il nostro.